A questo punto andiamo alla votazione dell'articolo 8. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Greco. Gitti. Chi altro non riesce a votare? Patriarca. Chi altro? Nessun altro. Dichiaro chiusa la votazione. 268 favorevoli, 127 contrari. La Camera approva. 8.0.400 all'Asia. Contrari Commissione e Governo favorevoli. Relatori in minoranza. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Latronico. Ecco, adesso ha votato Latronico. Qualcun altro? Allora, Villarosa. Ecco. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 97 favorevoli, 301 contrari. La Camera respinge. Adesso andiamo agli identici. 8.0.1. 8.0.2. Paglia e Colletti. Contrari Commissione, Governo e Relatori in minoranza. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Hanno votato tutti. Allora, Dilello, Carloni, Marzana. Massa che ha votato. Carbone. Chi altro non riesce a votare? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 94 favorevoli, 306 contrari. La Camera respinge. Adesso chiedo alla Relatrice i pareri per gli emendamenti riferiti all'articolo 9. Sì, signor Presidente, per l'articolo 9 sono tutti i contrari. Anche gli aggiuntivi? E anche gli aggiuntivi, sì, grazie. La ringrazio. Il collega Allasia. Grazie, Presidente. Sull'articolo 9, l'emendamento 9.1 favorevole, 9.2 contrario, 9.3 è identico, 9.4 contrario, 9.5 contrario, 9.6 contrario, 9.7 contrario. È ritirato il 9.7 e anche il 9.8. 9.9 sottanelli, contrario, 9.10 contrario, 9.11 e il 9.401 sono ritirati, quindi mi dica il 9.400. Favorevole, 9.402 contrario, aggiuntivi 9.01 contrario.